eh però in che senso? avevo già servato sto pomeriggio al 100 in realtà a me me lo facevo fino a livello 20 dopo non me l'ha fatto più quindi in codo eh vabbè ma scusa però comunque sia a me non me l'ha fatto fino a livello 70 dal 77 ho iniziato a avere problemi invece Valeria dal livello 0 ho iniziato a fare così eh ma cioè io che sono al livello 52 a me problemi non me ne dà almeno per adesso eh poi dopo non lo so eh speriamo non lo rimanga così allora almeno a te eh almeno a me si 27 agosto viene più di un mese per finirlo dai ma si ma che cacchio me ne frega a me delle sfide ah aspettate io arrivo a livello 100 non faccio più niente cioè gioco soltanto per giocare poi non gioco per competitive vabbè se lo fai qualche competitivo la faccio ma non ne faccio più sfide poi raga andiamo alla fortiglia che c'ho da fare la missione delle raccolte di scatole va benissimo ok almeno così giochi che siamo tutti e tre insieme sono un po' d'acqua sei zucco? d'acqua è un pozzo d'acqua vai raga a buttateve albida è piovuto no da me non ha piovuto magari ah no da te non piove come no? da me ha diluviato si da me è da me è qua diluviato ha fatto una botta beh sai dalle sette no dalle cinque fino alle nove quasi beato mamma mia si e mo devi vedere un in che senso? ma è un prezzo ma è un prezzo eh eh poi devi vedere che è freddo che fa mo c'è bello io stavo sotto me l'ho coperta e sto bene ma perché c'è gioco malo ma perché scusa ma che c'è l'hai coperta addosso? perché devo non giungere un sacco di roba le coperte quelle da sottili le lenzoline tipo ah ho capito si si me ne metto sotto e sto bene senza che poi muoio ma sarà già in manutenzione a fare l'altro? eh c'entra a me allora io già una l'ho beccata ma c'è sta ma che cacchio mi sta camminando in fronte mannaggia uu ma sempre a me mi succedono ste cose ma che cacchio è che non possono succedere eh vabbè ma no tutta a me però e che cacchio ragazzi quando trovate le case delle munizioni trova pingatemele ecco due o qua qua non ce le sono proprio però eh vabbò 3 3 4 qua vieni aspetta audito non riesco a trovare la cesta non c'è niente non c'ho a post raga oggi io mi sono messo a piangere tipo c'è per forte perché che succede che ho fatto ho fatto ho fatto la vecchia modalità come la vecchia modalità guardate sono tutte le vecchie armi ah ho trovato molti armi che mi mancavano tipo il pompa del nonno ah è pompa del nonno ah ma ci sta ancora il pompa del nonno no tesoro c'è hanno messo una modalità dove ci sono tutte le armi vabbè se dico combat non sai manco che cos'è il combat no io no e vabbè tu albi lo sai no no il pompa combat c'è spara a raffica ah forse mi arrivo arrivo forse mi ricordo che forse mi ricordo qual è raga un'altra due cesta mi manca aspetta che vado da albi raga ma vieni oh no ah non lo so io ma chi è un bot o gente vera vieni a destra tua c'è ah non lo so io e se poi mi raci ok fatto fuori raga io c'entra me non capisco dove eh non perderlo di vista che quelli era scudato probabilmente c'è la questione non lo capisco dov'è ecco son morto aspetta ma aspetta ma chi c'è gente vera si venga venga lì eh lo scuola ah non lo so io so senza niente albi purtroppo mi dispiace oh mi sparano vieni qua da noi scusa che ne stai sempre da solo appunto perché te ne stai da solo vieni qua dove siamo noi scusa eh non c'ho niente ma vieni qua tu dai pigliati pigliati la roba finalmente l'arma addio raga ciao ciao no oh sei scemo ah non lo so io ah 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 via damosi via damosi non mi spaccare davanti mentre mi sceglie ehm un'altra cesta mi manca un'altra cesta di munizioni credo ci sia un tipo qua dentro credo ci sia un tipo qua dentro credo ci sia un tipo qua dentro ah non lo so io sto scuola del cavolo però dai non si può fa' sta cosa il sniper secondo me è morto perchè che è successo perchè c'è gente da lui sniper dove stai ma sei vivo ancora si eh boh per il momento si sto scuola di me raga uno da me uno da me raga si stava scudando gabriel gabriel vieni qua munizione si hai visto arrivo morto tipo arrivo albi arrivo hai fatto tu albi fatelo tu le munizioni sono a per te aspetta si aspetta che sto arrivando albi dammi due secondi non mi racconti oh ci do eh vatti due tizi sanno dove state raga però non dovete staccarti eh si non dovete in che senso basta basta ahia figlio di basta dai fatemi fare almeno sta in che dimissione del in che in che in che in che in che aspetta albi che arrivo lo stai si muove sopra aspetta che vado a recuperare a christian aspetta che c'è da tegri eh ci sono due tizi ma sono appesantemente armati mi dica mi dica prima che mi chiedi sotto eh io non lo so non ho capito bene perché avevo tipo 50 di vita ah ok perfetto ma no se ne sono andati se ne sono andati si uno mi resti eh dammi il tempo dai per tu vai al ciamoncino vai tu no non posso andare via da qua aspetta che sto arrivando anche io tranquillo vabbè mi vuoi restare vado prima io ad arrestarlo perché mi voglio pure con la giampa che sta là sopra tranquilla basta che mi richiami restami prima dai raga mi dovete proteggere però perché io ho il pass per entrare di là dentro aspetta che sto arrestando a due secondi arrivo due secondi arrivo ma dammi la pistolina leggendaria che rimango soltanto con quella no ti rendi l'altro dammi la pistolina soltanto vai grande arrivo albi in che 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 perché sta roba perché un tizio se non mi sbaglio e se impossibile seguirà ora ma perché non c'è riuscite lo riesce a restare no così non riesco non lo fa di trasportare né a restare così ali su e resta mi dà che poi scappiamo sali qua sopra e trasportami sopra aspetta allora non prendiamo niente non prendiamo quanto pare no a quanto pare no c'è dobbiamo soltanto andiamo da qua stai pronto lì tu gira la barca che saliamo ok dai damo se vai muoviti 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 che non fa cacata e appunto vai direttamente in safe si vai direttamente in zip ma non ne qua nel bordo proprio safe safe se il centro settico è sì io sto con una pistola in un pompa è visto che non può passare intanto però intanto riesce ad andare avanti mi dovete andare mi dovete darvelo un po di colpi se non ci fermiamo e aspetta fermati qua che così luttiamo a sta barca a sta nave qua e se vabbè ciao a fermati qua io ho detto ruttare non distruggere però è taccia te vai pigliati i coppi tanto qua di cesto non c'è ne stanno pure abbastanza ora che vedo l'urpini venite aspettate che c'ho pochissima vita dove sono i colpi e qua ce ne stanno abbastanza vieni qua via ma spero prendo star farse nipote sta niente qua li piglio li piglio io perché vabbè guarda ma ragazzo pochi però che ti serve dimmi a me che ti serve tutto anche io colpi pochissimi proprio non c'è un po con lo sputo ragazzo mio mi dispiace abbiamo fatto a metà si basta basta non basta mi spiace mi arancino che vogliamo fare sopra vabbè dai su andiamo a salire che sono stanno gli slurpo che cosa non c'è un punto è tu devi vedere io vabbè 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 salita vai vai io sto arrivando qua arriva a mali e se ciao è d'acqua dove vai ogni cazzo di volta non mi prende il comando giuro ogni cazzo di volta non mi c'è il comando non so io che sono nabbo è va di va di va di va di si muova si muova vada vada qui e comunque sia che ha il signorino rosso lo tolga grazie a calma arabao ci fermiamo a luttare quasi arabao mi da questo medici che non c'è vita lasciate sto cecco almeno non tengo che lasciamo questo ti lasciamo con l'altro e albi che si piglia cazzo lo ciufolo no mi stavo facendo il medici ma se ma non fa niente la che c'è nelli faccia e a consenta c'è scatole di munizioni e cazzo e non c'è tutto c'è tutto quel che ti serve dai basta che sembra che dobbiamo andare in safe ho spaccato tutto fratelli è fatto bene frate ma salita dai muovi ti fate più a quel medici se ti serve o no l'ho fatto già salita aspetta che lo porto io damos no e va bello per noi a gabri grazie vai vai e ma che sono ste perlate che fare però dai e andiamo qua dentro e vabbè la visuale di merda a te qua avanti a tuo ragazzo tutto il giro vedete qua dentro venite proprio dentro la città a dentro la città proprio ma vabbè andiamo la storia conta robert acqua petta alla salute e rottino davanti questo qui c'è caccia che era da meno scildone in che senso che cazzo di zona da stupiro gabri se mi interessa che roba è no no grazie quando copi di tu che pigli tu ma non in che senso ma non è che sia molto alto chi che è molto alto io sono un metro 80 svegli e quindi no veramente lo scherzo tanta l'aspetta ma veramente come 3,78 sono si damosi a ripigli al coso ma albi no no andiamo a piedi quasi tutte curve curve è a posto damosi a piedi allora va ma chi tu un metro e settanta prima che non ci credi ma per l'età che tieni io sono 1,65 e pensa un po te mio padre è 1,90 io che so e vabbè ma lui sì perché c'ha l'età suo grazie gentilissimo fermo è mio io ce l'ho vabbè vorrei fa se io ho 28 anni adesso ho 1,65 senza te per l'altro non ci credereva però è vero non è colpa mia ogni modo che ha sfiorato 22 quello di raga visto quello con moto schifo quello con moto schifo che ha fatto 20 20 li ho fatto ragazzi uno con l'aereo ma non è vero raga fateva fuori raga fateva fuori 3 4 piccato quanti qua stanno amica l'ho buttato giù uno però ma fatto è non c'è un buono e quattro ragazzo tutti quanti qua preso tanto non resti in vita soltanto tu resti in vita e siamo tutti quanti qua allora uno atterrato lì salute altro rotto da latte e si sta vedendo che mira di merda tengo oggi non sollevato ecco perché no che io ho fatto i tuoi con l'altro vedere ali alla tua destra che riguarda come ci vuole 1 un momento costruito a cazzo ma se è meglio che a cazzo che non niente ma se fa questo non faccio lì c'è il suo cazzo anche le ti fa easy o ma tua mia madre dai sto morendo tu cazzi 2 se ci mori mi sa che te l'hanno fatto fuori è già grazie e si conclude qui quest'altro nuovo video di fortnite voi mi raccomando come sempre spolliciate commentate iscrivetevi al canale condividete questo video ringrazio kri 23030 e sniper dark x per aver contribuito a questo video io a dire il vero ragazzi mi ci sono divertito abbastanza perché tra rutti bestemmie risate e chi più ne ha più ne metta beh sul canale una cosa del genere ogni tanto ci sta bene detto questo ragazzi da the official video games è tutto ciao ciao ragazzi